dietro di lei, gentili telespettatori buona giornata, dietro di lei c'è il finanziere Soros Fratelli d'Italia, così dice della candidata alla segreteria del PD, Ellie Schlein e così il PD senza idee e senza obiettivi continua a cercare appigli nel centrodestra appigli, critiche, sono cattivi nel centrodestra, dicono i candidati alla segreteria del PD sono cattivi, 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 perché? La risposta è perché sì, perché sì, perché sì bene, ora gli elettori si sono un po' stufati di questi che si autodefiniscono democratici ecco, una povertà di soluzioni dei dem che mettono al primo posto sempre le stesse cose il DDL ZAN, lo IUSSOLI, non si possono fermare i clandestini che arrivano, bisogna accogliere accogliere di più, sempre di più, ecco l'elettore del PD quando sente queste cose gli viene nell'orticaria, perché voi credete realmente che un elettore del PD voglia far entrare il più possibile clandestini? Credete veramente che all'elettore del PD interessi esclusivamente il DDL ZAN e lo IUSSOLI o lo IUSSOLI o tutte queste cose qui? Assolutamente no. Secondo la candidata Schlein la Meloni sarà un'ennesima delusione per chi l'ha votata, la destra non è cresciuta, sempre i suoi 12 milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi poi a Salvini e ora a Meloni. Nonostante siano divisi, sta a noi far esplodere queste contraddizioni. Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, dice che dopo l'ennesima batosta del PD alle regionali, la Schlein ora vuole dare lezioni di politica al centrodestra e a Fratelli d'Italia attaccando Giorgia Meloni. Dietro la sua candidatura c'è il finanziere ungherese Soros che attraverso di lei tenta un'oppa ostile al PD per imporre in Italia un modello politico alternativo a quello della Meloni su immigrazione, globalizzazione, diritti civili ad esempio. E così Federico Mollicone parla e avanza delle ipotesi che arrivano da diverse fonti giornalistiche. La vicinanza, dice, di alcuni esponenti politici italiani alle posizioni della Open Society Foundation di Soros, tra cui proprio la Schlein, non è un mistero ed è infatti citato in una mappatura della fondazione raccontata più volte. E poi, naturalmente, molti elettori sono passati a Fratelli d'Italia e il PD questo non lo ha mai accettato e tenta di portare il governo alla frantumazione, ma in una maniera un po' superficialotta. Come? Dicendo che la Meloni è cattiva, quelli al governo sono cattivi, mentre loro sono i buoni che tentano di distruggere il male. Insomma, se fosse la trama di un film fantasy sarebbe deprimente anche come trama, no? Sempre la stessa solfa. I cattivi che cercano di sopraffare i buoni e poi alla fine i buoni vincono. Però qua non ci sono cattivi e non ci sono neanche buoni che vincono la fine. Per fortuna, dice Mollicone, gli italiani hanno capito che c'è un partito che difende i loro interessi, mentre ce ne sono altri che difendono quelli delle lobby straniere, gruppi di potere, e che antepongono le minoranze davanti a tutti. Il PD è in affanno? Ebbè, su quello non c'è assolutamente dubbio. Intanto questi finanziamenti che sarebbero arrivati da Soros a Lash Line non c'è comunque, una certezza. Beh, in molte teorie, in molte cose complottiste, si tira fuori sempre questo Soros che è sempre dietro tutti quelli che sono contro il sistema. Non lo sappiamo. In molti giornali si è parlato di questo, di Soros che finanza Lash Line. Ma attenzione, tranquilli, tranquilli, vincerà Bonaccini, vince Bonaccini, anche se io come Senaldi faccio il tifo per Lash Line. Perché io e Senaldi facciamo e tanti altri il tifo per Lash Line? Perché Lash Line è la continuazione esatta di quello che c'era prima, di Letta, di Zingaretti, di quella politica fatta e costruita contro il cattivo di turno. Prima Berlusconi, poi Salvini, oggi Meloni. E voi avete visto che in 30 anni di politica di sinistra contro i cattivi di turno le elezioni non le hanno quasi mai vinte, ma alla fine poi, lo sappiamo, sono riusciti sempre ad arrivare al potere, anche senza vincere le elezioni. Però la politica costruita contro qualcuno, contro una persona, non ha mai funzionato. Per questo che io, Senaldi ed altri tifiamo per Lash Line che vinca le elezioni interne al PD per diventare segretaria, perché potrebbe continuare la distruzione del PD. Potrebbe continuare quella logica della Meloni è cattiva, la Meloni è nostalgica. Dice, è dopo? È dopo, è cattiva, è nostalgica. È dopo? È cattiva, è nostalgica. Ecco, un disco rotto, no? Il disco rotto che ripete sempre la stessa cosa. Prima era cattivo Berlusconi, poi era cattivo Salvini, oggi il cattivo principale è la Meloni. Ecco, per questo che si tifa Lash Line, ma alla fine vincerà Bonaccini. Bonaccini a parole dice che lui è diverso. La Meloni non è un nemico, ma è un avversario. La Meloni non è nostalgica, anzi è anche brava a fare quello che sta facendo, ma noi abbiamo idee diverse e dobbiamo portare delle idee per farci votare e delle soluzioni diverse ai problemi dell'Italia. Ecco, Bonaccini dice devono votarmi per idee diverse e soluzioni diverse. Oggi non ci sono idee diverse, dalla Meloni, oggi non ci sono soluzioni diverse, si parla solo dicendo sono cattivi. Una roba di un infantilismo e di un sempliciottismo senza precedenti. Da trent'anni ripetono le stesse cose. E poi, da un decennio, tirano fuori sempre le stesse tre proposte. Due, tre, la patrimoniale, gli ussoli, legge ZAN. Ecco, secondo voi l'elettore tipo del PD interessa veramente mettere una patrimoniale, la legge ZAN e le cittadinanze più facili, quando già l'Italia è il paese che dà più cittadinanza in Europa? Credete veramente che l'elettorato del PD interessi tutto questo come cosa primaria, cosa più importante? Arrivederci a tutti e grazie.